Ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Rosario Crocetta e all'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità chiedendo urgenti provvedimenti per la realizzazione del porto rifugio di Gela. Il deputato regionale di Forza Italia, il giolese Pino Federico, sottolinea che le strategie di intervento per il settore portuale in Sicilia miravano a far divenire la nostra Regione una piattaforma logistica dell'euro mediterraneo e l'intervento volto al potenziamento e al consolidamento delle opere presenti nel porto di Gela. Pino Federico sottolinea che c'è un accordo stipulato tra Regione Siciliana, Eni e Comune di Gela in cui si è stabilito l'impiego di parte della royalties corrisposte dall'Eni a Gela a copertura dei costi per la realizzazione e di escavazione di tutta l'area portuale e l'allungamento del braccio di ponente. Il porto rifugio di Gela fa parte del piano di sicurezza e di evacuazione della raffineria inoltre risulta insabbiato soprattutto all'imboccatura non consentendo di conseguenza la normale navigazione di tutti i natanti soprattutto quelli adibiti al soccorso a mare, servizi antincendio, capitineria, polmare. Pino Federico fa rilevare che il progetto definitivo non esecutivo redatto dalla Protezione Civile regionale ristagna ancora a tutt'oggi presso gli uffici della Protezione Civile per la mancanza della firma tra Regione, Eni e Comune di Gela. Il deputato di Forza Italia Federico si chiede quali sono i motivi ossativi. È assurdo che dopo tre mesi, quattro mesi, dopo un'infinità di riunioni dopo un insieme di viaggi che si fanno a Roma ancora questo benedetto accordo non è stato fatto. Ci vogliono quei 5 milioni e 800 mila euro che mi auguro in settimana mi hanno detto che dovrebbe esserci un incontro finalmente trovano una soluzione anche perché è diventato anche molto pericoloso è diventato pericoloso per il porto industriale è diventato pericoloso ed è anche indecente il fatto che diverse barche, anche straniere, vogliono entrare e si zabbiano. Questo penso che dà un'immagine negativa della città invece qualcuno che ha un ruolo amministrativo il sindaco con la sua giunta, quindi con l'assessore siciliano il presidente della Regione, Eni, finalmente devono sedersi intorno a tavola e decidere. Non ci vuole per firmare un protocollo sei mesi ci vuole veramente un giorno e la buona volontà.